Ciao a tutti, ben arrivati al mio salotto, un salotto dove noi possiamo parlare di benessere, dove possiamo affrontare i temi di invecchiamento, dove possiamo capire magari come sconfiggere gli anestetismi delle cellulite o riattivare il metabolismo, o far crescere i capelli, o migliorare anche il nostro semplicemente stato di umore, perché è molto importante volerci bene, trattarci con rispetto e rallentare il processo di invecchiamento nel nostro corpo. Qui su Energil è un vero e proprio canale dedicato 100% al benessere, ma benessere che cos'è? Benessere tantissime cose, no? Benessere psicofisico, benessere della salute, benessere anche del pagamento lavorativo, cioè benessere di stare bene nella nostra pelle, ma benessere tante cose e noi affronteremo tutto, tutto su questo canale. Ma volevo innanzitutto darvi un piccolo anche, diciamo, una rappresentazione di chi è Jill Cooper, perché spesso volentieri mi vedete e mi pensate che sono solo genica, o solo sempre sua, o solo sempre positiva, è una persona che dice di mangiare zero e allenarti quattro ore al giorno. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità, perché la mia vita è dedicata a aiutare le persone realizzarsi, perché sono convinta che è una persona che si sente realizzata, ok? Realizzata in tanti fattori. Io parto dal movimento, cioè nel lontano 2003 ho scritto il mio primo libro che si chiama Conquisto il tuo corpo, però nel frattempo ho scritto otto libri, libri su come essere sani e belli, libro Il metodo, questo anti-invecchiamento, ho collaborato con altri autori, scrivendo capitoli sullo sport, anti-anta, per aiutarci a affrontare l'invecchiamento dopo le 40, The Program, che l'ho fatto con RITI, che era una questione di lavorare con un vero e proprio schedario, diario, di come affrontare questo processo di rimetterci in forma e poi i modi per combattere le cellulite e, non ultima, mai dire diete con Sasha Sorrentino è la mia figlia Veronica Cibello, dove noi ti facciamo vedere che per metterti in forma A non devi fare la dieta e B non devi soffrire e C molto probabilmente ti faremo mangiare di più, sì, mangiare di più per avere più del tuo corpo. Ma ritorniamo su da dove è nato tutta questa mia passione per l'anti-invecchiamento. Nasce da mia madre, mia madre, nei anni 80, era una donna, bellissima donna, tennista. Io vengo da una famiglia di tanti tanti sportivi, mio padre giocatore di football, mia madre tennista. E che cosa è successo? La mia famiglia eravamo dedicato allo sport. A 40 anni mia madre ha scoperto Jane Fonda, ha scoperto proprio l'aerobica e a casa mia si faceva l'aerobica alle 6 e mezza di mattina, prima di andare a scuola. Mia madre ha tolto la carne rossa di casa, non si usava più salida da nessuna parte. Allora, io ho un altro, diciamo, preso su tutti questi temi, poi in questi giorni, in queste puntate, tu scoprirai come vedo io l'anti-invecchiamento. Però devo dire che io sono figlia di mia madre e tutta la passione della mia madre ho dedicato al mio stesso corpo, a mia stessa vita, partendo già da 27 anni. A 27 anni ho cominciato ad affrontare i temi di anti-invecchiamento perché mia madre era fissata a rallentare questo processo dell'invecchiamento sul suo corpo. Così, a 27 anni, presa dalla stessa bega di mia madre, perché comunque a 27 anni comincio a notare le cose che cambiano. 16 anni sei fresco come un rosa, 20 anni sei sempre fresco come un rosa, puoi grottare la faccia, puoi fare tante smorfie, ma la faccia rimane liscia, compatta, bella. Poi hai energia, giusto? Fino a 25 anni vogliamo dire che abbiamo un'energia a vendere. Dopo 25 anni qualcosa succede nel nostro corpo e cominciamo a notare le differenze, le differenze sulla pelle, le differenze sull'energia, le differenze su girovita, la differenza magari anche addirittura sui capelli. Così, osservando questo processo di invecchiamento innanzitutto sul mio corpo, ho creato un metodo. Un metodo. Il metodo è affrontiamo i segni di invecchiamento sul nostro corpo. E quali sono questi segni? È come se non potessimo addirittura trattarlo come se fosse una, diciamo, una mancanza di salute. Non mi piace dire altre parole negative. Però, quali sono gli segni di invecchiamento? Rughe, apatia, problemi di digestione, problemi dell'articolazione, vogliamo parlare di rigidità articolare, problemi di metabolismo, problemi di dormire profondamente, problemi di depressione, problemi di digestione. E potrei andare avanti. È un corpo che è una macchina, una meravigliosa macchina che comincia piano piano, perde la forza, perdere la verba, perdere la capacità di funzionare come i nostri 18 anni. Perché qua dentro abbiamo sempre i 18 anni. Il problema è che il nostro corpo ogni tanto non si concorda con noi. Così, la mia passione mi ha fatto sì, che è diventata una sorta di missione a cominciare a cercare le soluzioni per rallentare il processo biologico dell'invecchiamento. Perché cronologico, io sono nata nel 1968 e ogni anno che passa il mio patente dice che cronologicamente ho un anno in più. Ma il mio corpo ha un'età biologica. E l'età biologica è legata a tantissimi fattori. Tempi di reazione, velocità del metabolismo, elasticità, forza, potenza, reattività, udito, vista. Cioè, ci sono tantissimi, simissimi fattori che possono dire quanto rappresenta, quanto sembra l'età del mio corpo. E quando io parlo di rallentare il processo dell'invecchiamento, io sto parlando di quello biologico. Facciamo caso, no? Se io ti faccio vedere questa foto, ok? Ti faccio vedere questa foto. Quando tu guardi questa foto, formuli nella tua mente un peso. Tu stai in questo momento guardando questa foto e dici la ragazza alla sinistra, ha un peso o un'età. Qual è il primo, diciamo, fattore di scatta nell'occhio? Ti scatta nell'occhio l'età. Facci caso. Noi leghiamo al peso in esubero, peso in accesso, un'età. Noi diciamo, questa persona sembra più vecchia di quest'altra persona. E fa proprio parte di noi. Così, quando io affronto il processo di invecchiamento biologico, io provo di aiutare il metabolismo da una parte, di rimanere attivo. Così non cominci a accumulare una graduale, diciamo, quantità di peso che sembra che cade a tutti o quasi tutti. Perché ovviamente ci sportivi ci possiamo proteggere un po' di più. E il metabolismo è già la prima. Ma se io per esempio ti faccio vedere questo. Una faccia. Questa ragazza qua, anche qua, non guardi, non dici guarda quante rughe ha. No, tu assegni un'età. Cioè, quando noi parliamo dell'età biologico, parliamo sempre proprio di questo fatto di qualcosa che accade e fa sembrare il corpo più vecchio. Possiamo anche parlare delle fortezze del cappello, possiamo pensare delle vene varicose, le varici, il colorito della pelle, gli anestetismi delle cellulite e potrei andare avanti. Flessibilità. Perché una persona che è flessibile, cammina diversamente di una persona che è rigido. Così, quando noi parliamo del mio metodo, noi stiamo parlando qui in Energy, parleremo su tanti fronti. Parleremo con medici, parleremo con nutrizionisti, faremo sport insieme, vi spiegherò come utilizzare gli attrezzi igienici. Però la cosa bella è che se tu, tutti i giorni, cominci ad affrontare un settore della tua vita, partendo dalla nutrizione o integrazione, o anche piccoli articoli di bellezza che ti possono aiutare anche a fare semplicemente Face Gym, troverete anche l'esercizio per la faccia su Face Gym, voi vedrete che il tuo corpo, l'aspetto del tuo corpo può anche riovenire a 70 anni. Potrai ritrovare il metabolismo, potrai trovare anche un miglioramento per le quantità delle rughe sulla faccia e potrai cominciare a rallentare il processo di invecchiamento, non per essere belli per gli altri, ma per essere belli per te. Io, secondo me, quando noi parliamo del benessere, dobbiamo essere molto protettivi del nostro spazio, molto protettivi del nostro crescita interna e dobbiamo farlo per noi, ok? Perché questo è un altro fattore, che in energy, anche nel mio modo di vivere, il mio modo per affrontare la vita, ok? E l'autostima, e l'energia, e la costanza, la disciplina, nasce una sorta di mondo che è energy, la mia energia nasce da questo modo che io affronto la vita e io vorrei aiutarvi ogni giorno a capire di più del tuo metabolismo, della tua pelle, dei tuoi capelli, della tua articolazione, dei tuoi muscoli, per far sì che noi possiamo crescere, ma non invecchiare e maturare, ma non farlo vedere sul nostro corpo, perché la cosa più bella è, noi a qualsiasi momento della nostra vita possiamo migliorare. Potremmo già migliorare semplicemente bevendo più acqua oggi, perché conosco tante persone che non bevono abbastanza acqua, conosco abbastanza persone che non si muovono da tanto tempo, lo sapete che anche facendo soltanto 10 minuti al giorno, non solo che tu ti aiuterai i muscoli, ma tu aiuterai anche a produrre la dopamina, che è un neurotrasmettatore che ci dà un premio, perché abbiamo fatto i nostri 10 minuti, che ci aiuta ad allenare la costanza, ci aiuta ad allenare anche il muscolo proprio della forza di volontà, che ci aiuta ad essere costanti e se siamo costanti, come la goccia cinese, il nostro corpo risponderà. Ricordate sempre che il mio metodo è basato su piccoli, piccoli, piccoli gioielli, perle di attività o di una cosa che faccio, poco a poco al giorno, ma mi darà grandi risultati che io potrò vedere settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, perché la cosa importante qui è di crescere insieme. Allora, metodo Jill Cooper, qui su Energy che cosa troveremo? Troveremo tanti consigli, troveremo tanti, tanti risultati, ascolteremo tanti, tanti successi, vedremo come utilizzare le nostre attrezze igienici e ci supereremo anche noi stessi, perché ha spesso e volentieri il più grande problema di essere, approcciare un nuovo stile di vita, siamo noi stessi. Magari ti senti bloccato e man mano che mi guardi dici, guarda quanto mi piacerebbe essere come ero a 18 anni, quanto mi piacerebbe vedermi nello specchio diversamente, quanto mi piacerebbe a vedermi più snello, più tonico, più pieno di energia, perché questo è Energy, Energy è proprio legato alla vitalità. Non ti preoccupare, sono qui per voi e sono qui per aiutarvi a trovare questa meta, piano piano, insieme, giorno dopo giorno, lavorando per farci un percorso, un percorso, così seguite le ricette, seguite gli allenamenti, seguite i consigli, cominciate ad integrarvi, cominciate a trattarvi con rispetto e vi garantisco che puoi veramente tornare indietro con le lancette dell'orologio biologico per trovarti più bella, più snella, più energica e cambiarti vita realmente. Facciamo una piccola pausa, vi aspetto sempre qui su Energy, per parlare del mio metodo che ti aiuta a rallentare il processo di invecchiamento nel vostro corpo e giorno dopo giorno, consiglio dopo consiglio, vi garantisco risultati. Vi aspetto fra pochissimo qui su Energy. Bentornati in salotto di GIL, oggi siamo insieme per parlare del perché ingrassiamo invecchiando. È legato alla vostra rata metabolica basale. Abbiamo diversi fattori, ma adesso ovviamente c'è saccopenia, sedentarietà, una cattiva magari nutrizione, però oggi voglio parlare della rata metabolica basale. Ma che cos'è la rata metabolica basale e perché è così importante? Uno, è importante perché incide moltissimo sul tuo peso, ma incide anche sulla tua qualità di vita perché la rata metabolica basale è anche legata ad energia perché è una questione di consumo energetico ed è legato a che cosa? I nostri organi interni. Immaginate una macchina, una macchina che è seduta a un semaforo. A semaforo vedi una macchina che è accesa, ma non sta muovendo, non sta accelerando. Ok, magari avete anche il termosifone spento. Questo è il modo che noi possiamo misurare la rata metabolica basale, ok? Io misuro la rata metabolica basale dopo un digiuno di circa 12 ore, ok? E mentre sei proprio sdraiato, così non ti stai muovendo, ok? È un luogo temperato dove non stai neanche producendo o un esubero di calore, ok? Non stai riscaldandoti e non stai neanche raffreddandoti, ok? È un luogo temperato. Ed è molto importante perché molte persone non capiscono quanto è potente questa rata metabolica basale. Però andiamo a scoprirlo insieme perché questo contributo potrebbe aiutarvi a capire al meglio. Vediamolo. Allora, indovinate quante calorie bruciate in un giorno, quanta brucia in un giorno. E molte persone subito pensano al movimento, no? Pensano che, ah, basta che vado in palestra e brucio le calorie. Aspetta, attenzione, non è soltanto in questione di movimento, perché l'attività fisica rappresenta il calcolo totale solo a 20%. Altri fattori che incidono sul nostro peso è età, grandezza e composizione corporeo. Ma tra questi, quale consuma di più? La risposta è la rata metabolica basale. Consume 70% di tutte le calorie che consumiamo al giorno. E' legato e misurato a riposo, a digiuno da 12 ore e in luogo temperato dove io non sto producendo calore. Il metabolismo è legato ai consumi del mio organo e processi vitali, come il cuore, come il fegato, come il cervello. E consuma 70% di tutto quello che io consumo durante la giornata. Così, io se ho un rallentamento del mio metabolismo basale, è tecnicamente impossibile che lo posso compensare con il movimento. Poi, chiunque che ha più di 40 anni sa che tu non hai la stessa voglia di muoverti come i tuoi 20 anni, perché è legato anche alle tue articolazioni, alla sarcopenia, che vuol dire un graduale perdita della massa magra. Così, se io penso che a 70 anni per avere un metabolismo attivo mi devo soltanto che muovere, io non so voi, ma mi viene, mi diprima pure un po', anche da Jill Cooper. Però andiamo a capire di nuovo questa rata metabolica basale. Che cosa succede? Guardate questo grafico. E' rata metabolica, ok? Calcolate donne e gli uomini e noterete che cala da 0 anni fino a 80 anni. Allora, fino a 20 anni, 25 anni, diciamo abbiamo un calo molto lineare perché smettiamo di crescere da una parte fino a 25 anni, ma dopodiché è calo lineare, più o meno 1% all'anno fino a 40 anni, poi comincio a gallupare a 2% all'anno, fino a 2% all'anno dopo il nostro quarantesimo compleanno. Ecco perché vediamo le persone che diventano sempre più sedentari, sempre più grassi e magari anche sempre più lenti, perché è legato a proprio un consumo energetico. Ma la cosa importante che abbiamo notato in questi anni anche con voi, ok? Con voi, con il mio lavoro, con la mia ricerca, con i miei libri e anche con le mie televendite, è che ci sono fitoterapici che possono sostenere il metabolismo. Come sostengono questo metabolismo? Noi possiamo prendere, per esempio, un prodotto che si chiama acido colorogenico, che si trova in un chicco di caffè che non è tostato, e noi abbiamo visto che, e poi c'è un'altra cosa che è una tabella dal Ministero della Salute, che ci dice che ogni fitoterapico che viene dalla natura, ha, o non ogni, ma tanti, hanno di specifici azioni sul corpo, no? Di gestione, per circolazione del sangue, per il microcircolo e per il metabolismo. E questo è molto importante, perché se io prendo un sostenitore del mio metabolismo, io aumento il metabolismo cellulare. Noi quando guardiamo il corpo, noi siamo fatti di cellule, miliardi e miliardi e migliaia di miliardi di cellule, e queste cellule, per vivere, hanno energia, producono energia, consumano energia, e per essere vitali hanno bisogno di questa energia, questo consumo energetico. Così, quando io prendo un sostenitore del metabolismo, è un forte antiossidante come il caffè, ho la possibilità proprio di aumentare il metabolismo cellulare, che è legato al metabolismo basale, che è legato agli organi interni. Allora, facciamo un'altra domanda, vediamo se riuscite ad indovinare qual è l'organo interno che consuma più energia. Il fegato, il fegato consuma quasi 400 calorie al giorno, e pensate quanto è importante la salute del fegato, per non solo aiutare il corpo, perché il fegato rappresenta più di 500 processi vitali del corpo, ti aiuta a bruciare i grassi, ti aiuta a filtrare tutto il sangue per tirare fuori i nutrienti che ci servono dal cibo che mangiamo per dare i carboidrati, i proteini, i grassi che necessitano per il metabolismo cellulare al corpo, ma aiuta anche a filtrare dalle tossine per proteggere il cervello, il cuore, il polmone. Cioè, il tuo corpo è una macchina straordinaria, e quando cominciamo a capire come funziona il nostro corpo, ovviamente più facile poi è tenerla in forma performante e rallentare il famoso processo di invecchiamento biologico. E ritorniamo su questo metabolismo. Allora, noi abbiamo, per proteggere la rata metabolico basale, noi possiamo affrontare diversi fattori. Cioè, c'è il metabolismo basale, e questo acido colorogenico che noi possiamo trovare nel caffè verde è qualcosa di straordinario. Perché? Quando io parlo di integrazione, io sto parlando di integrazione titolato. Che vuol dire? Un integratore titolato, per funzionare, ha bisogno di essere altamente concentrato e standardizzato. Perché quando noi parliamo di integratori, possono essere alimentari, prendono chicchi di caffè, li frullano e te le danno, o possono essere trattate come un vero e proprio processo farmacologico dove si prende i chicchi di caffè, dove si estrapola l'acido colorogenico e si sa più o meno, con veramente un lasso molto preciso, matematico, che c'è una concentrazione pari al 50% della parte attiva del caffè verde che agisce sulla rata metabolica basale. Questa rata metabolica basale, però, è molto diversa da fare la dieta. Perché se faccio la dieta, che cosa succede? Io stimolo il corpo di ridurre la rata metabolica basale. Andiamo a capire perché noi abbiamo il problema della rata metabolica che si abbassa. Guardate qua. 50.000 anni fa eravamo cacciatori e raccoglietori. Non mangiavamo tutti i giorni, non mangiavamo tutti i stagioni e magari non mangiavamo tutti i giorni carne. Anche questo va detto. È importante. Molte, molto verdure nella nostra vita. Verdure, legumi, bacche. Mangiare molto, molto verdure, anche per la flora batterica della nostra pancia. Ma ritorniamo su questo metabolismo. Noi 50.000 anni fa eravamo cacciatori e non avevamo fissa d'umora. Dormivamo, eravamo nomadi, dormivamo magari nelle caverne o nelle tende, spostavamo tantissimo, consumavamo tantissima energia perché dovevamo cacciare la preda per sopravvivere. Così, 50.000 anni fa, tuo corpo era programmato per risparmiare energia. E' una cosa che fa molto bene il tuo corpo. Il tuo corpo ama risparmiare energia, ama trattenere, diciamo, il grasso che è una batteria futuro nel caso che c'è una carissia prolungata. Così, il mio corpo non vuole bruciare calorie. Altra cosa, perché dopo 25 anni il nostro corpo comincia a invecchiare? Perché il nostro corpo cresce fino ai 25 anni? Fai caso che abbiamo tre freni metabolici. La prima è un'altezza. 15 anni, 17 anni, avete notato che qualcosa è successo, non potevi più mangiare come prima. A un certo punto, da mattina alla sera, tu non riuscivi più a mangiare prima senza mettere qualche chiletto. Il primo freno metabolico è durante l'adolescenza. Io sono convinta che questo è legato all'altezza. Il secondo blocco, diciamo, del metabolismo accade è intorno a 30-35 anni perché smettiamo di crescere a 25 anni. Cioè, proprio le nostre ossa, i nostri organi interni, il naso, cioè tutto si ferma e si finisce di crescere a 25 anni. A quel punto, il nostro corpo comincia a smantellare coloro che sono responsabili della costruzione. Colagine, densità ossea, muscoli, e così cominciamo a vedere il metabolismo perché non serve più tanto energia se ho finito la produzione. Quando una macchina esce fuori dalla catena di montaggio, non mi serve più qualcuno che lavora per metterlo, diciamo, a posto, corretto. Così, il nostro corpo, una volta che tu hai smesso di crescere, dice, perfetto, finita, baracca e burrettini, cominciamo a non smantellare, ma risparmiare per sopravvivere il più tempo possibile. Ma che cosa è successo? È successo nel frattempo supermercati, è successo riscaldamenti, è successo l'agricoltura, è successo una, diciamo, una possibilità di avere cibo a disposizione ininterrottamente. Noi abbiamo cibo a disposizione ed abbiamo reso troppo facile la nostra vita, addirittura le macchine hanno servo sterzo. Io, per parcheggiare la macchina, per chi ha 50 anni si ricorda quando doveva girare di forza in volano per spostare, diciamo, le ruote della macchina, adesso con un dito lo giro perché c'è servo sterzo e poi c'è lavapiatti e poi lavapanni e poi aspirapolvere e poi... Cioè, siamo affacilitati talmente tanto la nostra vita che siamo diventati sedentari anche se stiamo facendo le cose canoniche della casa e per spostarci da punto A a punto B. Così, le persone muovono di meno, il nostro corpo ama risparmiare energia e che cosa succede? Dicono, devo perdere peso e fanno la dieta. Oh, mamma mia, che succede quando facciamo le diete? Noi, che cosa facciamo le diete? Noi, quando facciamo le diete, guardate qua, entriamo in carestia, lanciamo un messaggio al nostro cervello che stiamo facendo una carestia. Se io dico che sto facendo una carestia, come succedeva a mia avi 50.000 anni fa, il mio corpo non fa nient'altro ma prende quella rata metabolica basale che tiene il mio corpo acceso anche da fermo, di fronte, faccio questo esempio, macchina di fronte, il semaforo è acceso ma non si sta muovendo, ok? Esatto, si dice, lavora al minimo, almeno, senti che è accesa la macchina ma non stai accelerando, non stai guidando, magari anche i termosifoni sono, diciamo, spenti, in quello momento stai facendo la tua rata metabolica basale, ok? E consumi energia. Allora, il tuo corpo se c'è tanto cibo a disposizione ti tiene attiva il metabolismo ma se il tuo corpo percepisce che ti stai per finire la batteria o ti stai per finire la benzina va al stand by e riduci il consumo lo fa anche il tuo cellulare e il tuo smartphone il tuo smartphone il minuto che comincia a finire la batteria ok? e dice va al stand by mette la salva schermo riduce l'uso della batteria per prolungare ok? ma tutto questo vuol dire consumare meno energia non di più e la stessa cosa succede la tua rata metabolica basale con ogni anno però che cosa facciamo quando noi facciamo la dieta? lo riduciamo ulteriormente perché se io tolgo il cibo dalla mia bocca mando un messaggio al mio cervello che dice carestia carestia attenzione non c'è più cibo e che cosa fa il tuo corpo? prende tutti i motori che muovono il cervello che muovono il fegato che fa consumare energia dal cuore e gli abbassa dice anziché oggi bruciare mille calorie ragazzi bruciamo 750 così risparmio energia e va da batteria piena a batteria quando sai quando la batteria diventa da verde a giallo dice perfetto riduciamo i consumi usiamo soltanto quello che serve per pompare il cuore per respirare per digerire e nulla di più così la dieta non funziona se tu hai fatto una dieta più di due volte nell'ottima due anni ragazzi vuol dire che qualcosa non è funzionato vuol dire che non hai risolto il problema ok? e per questo è importante di affrontare la questione della linea non con la dieta io purtroppo vedo tantissime persone che dicono diete 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 però è scientificamente provato che chi sta sempre a dieta più grasso di chi non lo fa e questo è un altro discorso ancora però vi do un piccolo pauso vi aspetto sempre qui nel mio salotto e continueremo il nostro discorso proprio su metabolismo e come tenerci in forma per tanti tanti anni a venire grazie ai consigli della GIL vi aspetto qui nel mio salotto va?